Anche se lo scudo contro questi sarebbe... però... Behò un boost di tutti... Ha preso... D'accompanso... Siamo vedori le mie... Gli scopri Le mie... Un po' di... Le mie... Un po' di... 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 Hold up! Is this as valuable as I think it is? What's this? Mino rosso. Forse questa sarà più potente. Eh, dov'è essere buffo? Non si può scendere. E qui sparisce. Però non si sente il vero. Allora qua. Non si può scendere. Annihilate! In a vine! Hear me! Flame a star! You're starting! You're addicted! You're free! You're free! A charge like that could easily be fatal. Megazomic blow! Coming through! Ha! Now! Scarlet Inferno! Scarlet Inferno! I'll heal you all! I'll heal you all! I'll heal you all! I'll heal you all! Help! It's for the good of all of us. Is it now? I'm practically unstoppable! There's something in the water! Is she? I didn't realize there was a pond here. Yeah. This is Taka Pond. And it happened to have saved my life once upon a time. What do you mean? As a kid, I survived life under the past lords by escaping here when I needed to. It's terrible to swim in, but great for catching a bite for dinner away from Renan eyes. Bear in mind, our rations back then weren't enough to live off of. You had to take matters into your own hands if you wanted enough food to survive. But how did you catch them? With your bare hands? That might take a while. Fish are prone to swim away at the first sign of trouble. I'd put bait or lure on a line and use it with a fishing rod. You must not be familiar with fishing if this sounds new. No, infatti, me la fai insegnare. Eccolo qua. Finalmente sblocchiamo... Finalmente. Diciamo che finalmente sblocchiamo la pesca. In modo di dare, tra l'altro, voglio dire, è una pozzangana. Quindi, se te ti metti a pescare, dopo un attimo non ci sono più pesci e non ci saranno più pesci per l'eternità. Se non stai attento a lasciarne qualcuno. In modo di dare, disseminate le zone di pesca. Ognuna popolata ha specie diverse. I pesci possono essere usati in cucina, venduti o usati per sbloccare nuovi titoli. Attenzione, c'è anche questo. Approfitta di ogni occasione per pescare. Ogni sessione di pesca è suddiviso in quattro fasi. Lanciare, attirare un pesce, prenderlo al lamo e tirarlo assai. Ok, ok, vai. Per informazione su ciascun personaggio. Per riferimento alla sezione comande della pesca. In che senso ciascun personaggio. Ok, qua, qua, qua. Seleziona canna esca? Canna animigata. La realtà è uno. Perché? A, 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 Y, Y, A. Vuol dire che se io faccio A, A, mi viene su quel tipo di pesce lì? Comunque, l'ancesca con questo. Ah, però è più sofisticato del solito. Lancio. Quindi, ah, ok, richiamo un dato pesce. Se voglio... Se voglio... Devo anche girare. Penso. Ok, ok, no. Quindi puoi selezionare che pesce attirare. Devi correre dietro la canna ad essere sinistra e poi comunque fare i tasti all'occorrenza. Sì. Aver voglia. Ed è dato come un oggetto... Un oggetto da vendita proprio. E' tutto ciò che c'è. Eh. Wow. Penso che ci saranno sfide di diverso livello, presuro. Però vabbè. In streaming non direi che non... Cioè, se fossimo in live, ma sto registrando offline ultimamente questo. Oh, sorry. Professionista. Una cosa professionale. Cioè... 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 Per una volta... Just let me know. Good to hear. Thanks for showing us. Vorrei vedere se adesso mi selez... Fammi vedere una cosa. Ok. Ehi. Avete l'aria di essere grandi pescatori. Io pesco da anni ormai e ho messo insieme un'ottima collezione di attrezzature. Se vi interessa posso prestarvi i miei pezzi migliori. Vi chiedo solo un favore in cambio. Mostratemi una testimonianza dei pesci catturati. Più ne pescate più attrezzature vi offrirò in premio. Se avete bisogno di qualcosa sapete dove trovarmi. Non fatevi problemi a consultarmi. Esperto di pesca. Che è qui. Quindi rimarrà qua presumo. Può insegnarti i rudimenti della disciplina. Mostrando i tuoi appunti inoltre ti indicherà dove trovare esemplari che ti mancano. Oh. Oltre a premiarti con un'attrezzatura. Un gioco nel gioco. Offer comune. Gisala. Accelera e recupero. Scrivete in aria. Beh. Si. Può servire. Visto che lei è già immobile. A terra. Quindi tiro fuori lo scudo in aria. Protezione al ko non è male. Protezione al ko. Un attimo. Una canna pesca. Come trovi i pesci. Questi i miei appunti. Valle Brina. Pie dello Stane di Talca. Questi sono i luoghi in cui non hai ancora pescato nulla. Perché non provi a visitarle? Vabbè. Ancora due e ti darò un altro premio. Voi sapere altro. Allora. La canna che usi determina quanta forza puoi applicare per tirare su un pesce. Certo. Se uso il ramoscello e non posso tirar fuori. Dai con il ramoscello non posso tirar fuori uno squalo dall'acqua. Non ce la faccio. Vabbè. Se con la tua canna attuale non riesci più a pescare nulla. Forse il momento di procurartene una migliore. Mostrami gli appunti che testimoniano le tue imprese di pesca e ti fornerò delle nuove canne. O è stato l'altro. Però in questo momento non ci mostra nulla. Volevo vedere se c'era un negozio ma... Allora adesso vediamo un attimo se... Ok. Qui segnalato. Vediamo un attimo. Per esempio Calaglia. E questo per forza è segnalato. Perché comunque questo era l'unico veramente a parte. Cos'è che c'era? Fungo, fungo. Quella che abbiamo visto. Visso di fuoco. Queste le pene medie. Forse anche qua c'era. No. 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 Qua ci sono dei laghetti però appunto non è segnato il puntino. Pianosenevira. Non si può pescare sostanzialmente infatti. Assis loader. No. Lebrina appunto. C'è ancora questa cosa eh. Vedrà qua. Indicato qua. Vabbè. Quello che dico io è... No. Un attimo. No. Chi è questo da curare? No. Bisogna ricordarsi quello... Il ponte là. Ma... Chissà. Guardarsi che in certe zone bisogna ritornarci proprio anche a livello di storia. Se mille per l'aiuto lo posso tornare alla mia miss... Ops. Come non detto. Fate finti di nulla. Cioè... Ascoli fanteria. Ordinario a fanteria. Realizzate con materia leggera e molto più maneggeri quanto... I'm always amazed what healing arts can do. Just doing my job. No need to thank me. Vediamo se è qualcosa di migliore. Qua... Vediamo sulla... Qua... Ok. Cambiamo il... Appena si presenta l'occasione cambiamo. Si si potrebbe anche cambiare subito però... Eh se ne abbiamo... Boh... Pare che... Cioè se ne abbiamo almeno 6 di accessori... Chiaramente li metti tutti 6. Poi se li devi cambiare... In battaglia per esempio sono già... Sono già... Basta di pulque. Abito tipico di Quaras. Paradini e roventi. Proviamo... Un esco... Deloccioso... Vedi... Ecco la base... Ma che me ne hai dato così collezionano cosa? Quello serve. Vabbè... Vediamo... No... Un attimo... Sotto cielo... Ah... Ok... Stanno parlando tra loro... Ok... Stanno parlando tra loro... Allora... 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 Stai conendociare della Guarge... Allora... Doughalim Si è allora... 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 Non tanto bene almeno... Di più adorare. Allora... Questa è non così... Allora... È un giro non più l'ugio... Allora... Non so... Allora... Qui è il tuo senso? Allora... Allora... Non serve lui. Allora... Grazie a tutti. Ok, vediamo se c'è qualcosa, se viene escursione qui potete fare scorta è tutto necessario, vabbè, vediamo se c'è qualcosa da vendere, il persico, visto che non è dato come materiale, vuol dire che è solo da vendere, però vediamo un attimo se c'è qualcosa. C'è qualcosa di nuovo, e ogni zona c'è la sua, spada lunga, aurea, zana di terra senza fine, però ovviamente ci mancano, spada lunga, ah usa questa. Questa usa zana di terra, ok, ok, sono le varianti, anche questo è un classico, come poi il gelsomino rosa che abbiamo visto. Comunque è inutile, non possiamo fare nulla di sicuro, un buffo della spada d'argento, questo invece sì. Facciamo. Lui qua, adesso i bastoni che non si possono fare. Scudo piumato, adesso lo possiamo fare questo. Peccato per il colore che non c'entra niente. Scudo sto dente. E mette lampi e luci magnifici da vedere, tuttavia accecanti. Accessori, c'è qualcosa di nuovo? No. Ehm... Visti silenzio. Cavallo. Pettiamo due, due lini di questi. Io spero che ti faccia anche coltivare, in realtà appunto, vediamo l'accia di comprare qualcosa, magari che non abbiamo niente. Anche se abbiamo finito anche i soldi, questo ci serve assolutamente. Niente abbiamo. Vediamo materiali. Amasso a strada, guarda qua. Vediamo ancora una decina di questi. Quattolici, questi. Però non sono sicuro di quello che sto facendo. Teoria. Adesso è un materiale, quindi non sono materiale per gli accessori. Quindi proviamo ad andare abbastanza sicuro. C'è che lo vale di più qua? Per dire, il minerano è persistente, ne abbiamo diversi. Però... Trovo veramente scomodo questa roba, non buona. Diciamo che il farming e la pesca sono cose che si possono fare offline, così come... Cieloza. 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 Si legna tra loro due, quindi. sodium instead. Ci raffreddarsi. queste cose anche perché non so se ci siamo l'epilogo dei consigli dentro nel nel non abbiamo perso nulla beh abbiamo fatto un po di di no con lui Io sono solo un vecchio lordo che ha abbandonato il posto. Non sono più in una posizione di guidare il mondo in ogni capacità. Ma che Kisara ancora busca le mie opinioni, sapendo che sia tutto bene il caso. Inoltre il fatto che non sono più la sua maggiore. Non sarebbe proprio perché non sei la sua maggiore? È naturalmente che i miei ragazzi vogliono ascoltare le mie opinioni. Ha, non ho pensato così. È vero che hai ragione. È vero che non è vero di un tipo di artistico come io. Quando i lordshipi sono decisati solo sull'energia astralale, possono essere vero ragione. Ma anche così, hai ancora avuto il tuo lavoro come lord, non? Certamente. Ho studiato di fare le mie funzioni. Ma, non ero più interessato in regolazione, tanto che evitare le decisioni della vita e la morte. Perfetto. È vero che questa mentalità in l'ultimo led solo a sickeningi dolore e la morte si tratta di un'altra parte. Ho portato non a vedere o a sentire nulla di questo. Contento di lasciare la nostra proposta pazza e igualità mantenermi blindo e morto alla realtà. E' stato un uomo. ma tu stai facendo amministrati. Io vorrei pensare così. Il passaggio in avanti è scuro, ma ancora andrò. Ho solo sperato che non ne fallo alcuni ruoli all'interno. Comunque siamo riusciti a vivere un po' di rendito dopo quelle quasi cinque ore di farming. Vediamo se possiamo andare avanti così. Potremmo riposare altre volte solo per vedere gli altri filmati ma vabbè aspettiamo. Tanto in teoria sono quelli. Tanti in teoria sono quelli. C'è tutto questo mistero. Tutto questo mistero. No. Ho proprio creato una coppia iniziale di personaggi misteriosi. Sean che non sappiamo la motivazione e ha questa maledizione. Lui che aveva questa maschera di ferro è appunto fortissimo. Non dovrebbe essere un re nano però perché non l'abbiamo mai visti se non l'avevo scoperto subito però non sappiamo chi è. Non ho fatto se non è come un'unico. Non ho fatto un'unico. Quindi sono l'arrivo di mangiare. Non l'avete accettato. Si sono un'unico. Benefiti della coesistenza, eh? Sì, che quando il bosco di spettacolo si è fermato, non c'era molto necessità per me riuscire. Ma ancora, non mi piace avere questa marka di servizia più lunga da me. Può sembra un po' strano a me dire questo, ma... sono solo me ora. Non un guarda o un esclavo. Sono mia moglie, e questa è la mia chance di avere un nuovo inizio. Mica asfaltata. Eh, come faceva a Roma. Questo segnatelo che è assolutamente vero. E noi abbiamo quello che abbiamo, è per quello, ma ci serve ancora altro da dire. Questa è un danno, mentre i renni sono i ragazzi che giocano. Certo, bene. Inizialmente, in un mondo perfetto, io penso che solo è vero che i che necessitano essere i che per fare il lavoro. Ma se, quando faccio così, potrebbe essere pericoloso come qui è qui. Ci sono alcuni che preferano essere altri che rischano loro le loro vita in loro sted. Quindi, lo che stai dicendo è che le persone si riusciano con l'inconvenienza fino a qualcuno viene conciato per la loro? Comunque c'è una considerazione da fare qua Bisogna aspettare i giapponesi per avere certe morali Perché solo loro che non hanno avuto una nostra storia europea Hanno trascorso eccetera Nonostante loro abbiano comunque avuto Io dire I signori hanno ancora tuttora l'imperatore Hanno avuto il bushido Hanno avuto tutti gli scorsi samurai Del suicidio rituale Ci sono tante cose da dire Tuttora sono abbastanza schiavizzati Nel mondo del lavoro C'è un altissimo tasso di suicidi Proprio per questo C'è molto il senso della vergogna sociale E anche le donne per esempio Se non si sposano entro tot Si sentono molto il peso di questo Cioè ci sono veramente tanti problemi anche in Giappone Però per altri versi sono gli unici Cioè nel panorama che a volte Gli unici non sono gli unici Però tendenzialmente sono loro più spesso Che trattano temi morali anche nei videogiochi O nei fumetti Sono molto più con le mani libere a volte Per esempio non so degli americani O degli americani in particolare Che sono un po' più incanalati E quando anche fanno qualche Qualche non so serie tv Che dovrebbe Magari essere utile insegnare qualcosa In realtà Non è così facile Trovarci una morale Sembra più che Oggigiorno per esempio Ci voglia far accettare il male In realtà Se vogliono vedere sulle produzioni americane Quindi siamo più sull'immorale Che sul morale in realtà Per certi versi Dopo vabbè C'è assolutamente del buono anche lì Anche nei fumetti A volte anche nel campo del superioristico Però siamo lì Lì ci sono dei Come dire Dei forti limiti no? La caratterizzazione è spesso la stessa no? Anti eroe Oppure Insomma sono molto più risi secondo me Comunque andiamo avanti Ha fatto due metri in montagna Prima cosa c'è un drago No Ah ok